Laura Kundari è una delle operatrici commerciali che ha aderito a questo progetto della Confcommercio Find Your Christmas. Si diceva prima nell'ambito della presentazione un tentativo di messa in rete degli operatori del centro per la crescita della città. Sì, è un progetto di animazione commerciale che coinvolge 33 operatori e immagina la città come una galleria a cielo aperto dove ogni cliente visitatore può trovare tre diversi percorsi di animazione commerciale dedicata all'illustrazione su vetrina, quindi alla valorizzazione delle vetrine commerciali attraverso quattro artiste che si occupano di illustrazioni, un percorso dedicato alle degustazioni di prodotti locali e un percorso invece dedicato agli eventi culturali e musicali. Questo progetto ha l'intento proprio di creare una rete di collaborazione che riesca a valorizzare il centro città e offrire ai visitatori e ai cittadini un Natale differente. Ecco, per quanti giorni durerà questo? Dal primo evento sarà il 6 dicembre fino alla fine del mese, quindi ci accompagnerà fino alla fine dell'anno, tutto il mese di dicembre. E come, dunque, c'è una pagina Facebook, un profilo social attivo, no? Esatto, abbiamo voluto, proprio perché parte da un'esigenza di anche avere una visione moderna, no? Rivolta verso il futuro, chiaramente era indispensabile l'aspetto social per, appunto, valorizzare e far arrivare il progetto in maniera chiara e a tutti. Quindi troverete sia la pagina Facebook che la pagina Instagram con il nome del progetto che è Find Your Christmas. Buon anno, Presidente dell'Associazione Tempo Svite. C'è all'interno di questo progetto anche un percorso dedicato ai presepi artistici? Sì, diciamo che, appunto, in collaborazione con la Confomercio, anche quest'anno, appunto, partecipiamo anche alla loro iniziativa attraverso la presentazione di nostri presepi artistici tradizionali in numerose vetrine del centro cittadino. La manifestazione Termin Presepe, ormai aggiunta al quarto anno, avrà una serie di iniziative, quindi sarà composta da una serie di iniziative molto ampie che verranno poi presentate nei prossimi giorni. In particolare, per presepi in vetrina, appunto, sono stati coinvolti un numero importante di esercizi commerciali e oltre 50 presepi coinvolgeranno, animeranno il centro del cittadino a partire, appunto, dall'8 dicembre fino al 6 gennaio 2019 e quindi i valori del presepi verranno proposti, appunto, a tutta la cittadinanza anche attraverso questa iniziativa che è il presepi in vetrina. Altra iniziativa che, appunto, ci piace sottolineare il presepi in musica. La città, quindi, un Natale senza musica non può essere Natale. Numerosi saranno i microconcerti che verranno presentati. In particolare, il 21 dicembre ci sarà un concerto edinerante, innovativo, in collaborazione anche con gli studenti di Bricialdi, dove numerosi studenti dell'istituto partiranno da diverse vie della città per arrivare fino alla biblioteca comunale dove si farà un momento musicale, appunto, per coinvolgere la città stessa.